Mezza giornata di riposo per i rossoneri che nel pomeriggio hanno invece ricominciato a lavorare nella chiete di Roccaraso. Squadra in forma, senza infortuni, che gradualmente si prepara al ritmo giusto. Giovedì alle 20.30, la Virtus partirà in mattinata, è prevista l'amichevole Adeboli contro la Salernitana che esagerà sensazioni positive o meno prima di cominciare in Team Cup il 17 allo Stadio Biondi. Mancano ancora bombe di mercato, il difensore Nicolas Di Filippo è stato ceduto in prestito al Melfi mentre il centrocampista Gazzi è stato convocato in Nazionale B Italia che a Coverciano affronterà in amichevole i giocatori senza contratto. Altra uscita il giovane portiere Lorenzo Cattafesta in prestito in Puglia al Taranto. In settimana si punta decisamente a sbloccare la situazione che vede Gaetano Monachello in stand-by nonostante la sua volontà di giocare a Lanciano. L'attaccante freme, il suo procuratore ha incontrato il DS Leone per i dettagli, il Monaco Tentenna. Si aspetta dunque la decisione ultima della società di appartenenza che dovrebbe girare il giovane promettente in prestito. Su Nando Sforzini nessuna novità, il pescare e l'attaccante sono ai ferri corti. L'ariete non rientra nei piani tecnici di mister Baroni e chiede una sostanziosa buona uscita per fare le valigie. Difficile pensare che possa accontentarsi delle proposte rossonere che al Salary Cup sono molto molto attente. Meglio pescare allora in gioventù audace con voglia di mettersi in mostra e dalle giuste pretese.